Signori, signori, si urla. Sì, signori, qua si urla. Sì, qui si urla. L'urlo di Nathan, che ha spaccato gli schermi di tutta Italia, dimostra che il Napoli, il Napoli c'è, il Napoli ha grinta, il Napoli ha voglia di vincere, la voglia l'aveva e l'ha messa in campo. E abbiamo ottenuto un risultato molto importante, signori. Signori, salvo, insomma, cretinate nelle prossime partite, il Napoli passerà il turno di Champions League. No, non sarà primo, cari signori, perché il Real Madrid è più forte. Eh sì, si può essere più forte del Napoli, sì. Il Real Madrid è sicuramente più forte. Non è che dobbiamo essere i più forti del mondo, perché all'epoca qualcuno diceva, non bisogna vincere con il Real Madrid, bisogna vincere con il Real Madrid, altrimenti vediamo secondo, terza e chiodaccia. Sacce che squadre prendiamo, non ci interessa. Non è che possiamo vincere la Champions League. No, non è che non possiamo, potremmo anche farlo, ma non si può puntare alla Champions League. Nessuna squadra, ma neanche il Manchester City, può vincere la Champions League, l'ha vinta l'anno scorso e rischiò pure, anche con l'Inter. Alla fine, se Lukaku non si mangiava quei gol, si mangiava. Certo, non è stato preciso, poi non è che ha mangiato gol clamorosi, ma ebbe delle occasioni. Così, quindi, e ci ha messo degli anni, ha speso quei soldi, quindi la Champions League è una lotteria, cari signori. E il Napoli potrebbe eventualmente anche vincere, ma non può puntare. Sarebbe sempre un fatto casuale. Qualsiasi squadra vinca la Champions League è un fatto casuale. E il casuale va tra le, chiaramente, sono comunque le squadre più forti che arrivano e in quell'ambito, in quell'ambito delle squadre più forti del Madrid, del Manchester City, vince con la casualità. Quindi, dimentichiamoci della Champions League. Era una partita importante. L'urlo di Nathan lo ha dimostrava. Abbiamo vinto, abbiamo meritato. Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra più forte. Diceva, boh, ci vuole assai essere più forte. La squadra che aveva perso otto partite, mi pare, abbia perso otto partite di seguito. Ma questo non significa. L'altra volta abbiamo vinto a Veroneci, però è educato che era una squadra che, insomma, di lotta per la recessione. Oggi, magari diranno, avete battuto a noi, non ci interessa. Se questo è il programma, non è che lo possiamo cambiare. La prossima volta dateci il Bayern, allora è buono. Dateci il Bayern, dateci il Manchester City e li vedremo. Signori e cari, qua bisogna vincere. Chi se ne frega con chi giochiamo. Chiunque si ponga davanti bisogna vincere, cari miei. E il Napoli ha vinto a Verona bene, per me bene. Quelle critiche per me sono state esagerate. Qui ha vinto bene, però questa sera, sinceramente, la parte finale poteva essere fatta diversamente. Cioè, dopo il gol il Napoli poteva cercare, con attenzione sicuramente, ma il secondo gol lo doveva cercare. Perché non ha avuto più occasioni, certamente. Queste sono partite, cioè, immaginiamo Osimen, che cosa ti combinava in questa partita, no? Però non c'era Osimen. E diamo atto al Raspadore, che ti caccioletto. E te lo fa bene. Guarda che quest'anno Raspadore sta facendo, sta giocando bene. Mi è piaciuto molto domenica scorsa. Oggi, quando sembrava, probabilmente sarebbe stato sostituito. Non so se avrebbero fatto giocare insieme sia Raspadore che Simeone. Stavo per mettere Simeone, però Raspadore. Raspadore ha fatto un gol d'attaccante rapido. Devo dire la verità, Raspadore mi sembra sempre più quel Paolo Rossi. famoso, ovviamente, dell'82, Paolo Rossi. Domenica scorsa contro il Verona, contro il Verona, fece questo movimento, quel cross proprio uguale a quelli che faceva Paolo Rossi. E stasera questo è un gol all'Auvalo Rossi, rapido, sotto porta. Effettivamente, non possiamo lamentarci. Il Guaraschkele è tornato. Il Guaraschkele, indubbiamente, adesso sta mettendo a ferro e a fuoco la sinistra. E stasera, insomma, l'ha fatto, l'ha fatto, il gol l'ha fatto quasi lui con questo suo dribbling e questo passaggio a Raspadore. Insomma, dicevo, però, 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 ecco, onestamente, stasera non mi è piaciuto vedere 10-15 minuti troppo, troppo difensivi. Dice, il fatto che tu non abbia avuto poi tantissime, l'hai avuta, attenzione, loro hanno avuto una grande palla di gol ed è stato proprio Nathan, Nathan, che sta crescendo in personalità, l'urlatore, lo chiameremo l'urlatore Nathan, che sta crescendo in personalità, dimostra di essere un bel giocatore. Però, in quel caso, la colpa sarebbe stata sua, si è fatto anticipare, infinocciare, direi, infinocciare, facendosi anticipare di testa. Per fortuna, la palla era stata indirizzata fuori dalla porta, però quello non ci stava niente a fare, quello sarebbe stato gol e ci fregava. Ecco perché il Napoli comunque doveva cercare di fare il golletto, lo so che non avevi Osimène in contropiede. E però bisognava farlo. E questo, perché il fatto di stare in difesa, la gente l'altra volta ha criticato, qualcuno dice, sì, però poi ci siamo messi dietro. Sì, ma a me se tu fai dei gol, come hai fatto domenica a Verona, con Politano che scattava in contropiede e dava quella palla a Quaraschelia così, nella prima e nella seconda volta addirittura Quaraschelia sull'Issi verso il portiere, io festeggio. Per me questo è calcio, questo è bene, cioè l'importante è che tu fai la cosa che abbia un senso. Cioè ti difendi per poi realizzare, ecco. Ma stasera no, perché gli ultimi 20 minuti alla fine ci siamo difensi, non abbiamo più manovrato, non siamo stati capaci di fare un contropiede come si deve. E quindi questo non va bene, in futuro dovete vedere come dovete fare, perché il Napoli può anche difendersi, ma deve poi riuscire ad avere delle situazioni in contropiede, perché se no rischiamo di prendere il golletto alla fine. Diciamo la verità, bisogna dire, il Garcia, la squadra latina è sotto controllo. Ripeto, qualcuno può magari, anch'io, stasera non mi è piaciuto questo finale, però onestamente sta facendo bene, ma Garzia avrà la sua, il Garcia, ma insomma, Garzia va avanti, ma comunque a noi mi interessa Napoli-Milan, perché questa è la partita più importante dell'anno, questa è la partita più importante dell'anno, Napoli-Milan, perché Napoli-Milan è il crocevia, se perdiamo con il Milan, certo, insomma, anche idealmente uno può lasciassare lo scudetto, anche se c'è tutto il tempo, 28 partite, cose di questo, però insomma, gli ultimi anni con Napoli-Milan io sono sempre stato deluso, quindi anche la squadra di Spalletti mi ha deluso quando giocava in casa con il Milan, e lo sappiamo benissimo, almeno due o tre partite, Champions League compresa, non si riusciva a costruire, ci siamo sempre stati bloccati dal Milan, partita, insomma, il Milan veniva qua e vinceva e non va bene, quindi mo' è l'occasione per Garzia per vedere se Napoli-Milan, ecco, Garzia, se tu vinci con il Milan, almeno hai sconfitto Spalletti. Sì, tu hai sconfitto Spalletti, il quale col Milan in casa non ce la fa mai, quindi non ce l'ha mai fatta, credo, quindi Garzia, mi raccomando, è l'occasione d'oro, io ci tengo più al Napoli-Milan che alla partita di stasera, anche se giocando fuori casa, una partita di Champions, l'emozione, tutto quello, così, davanti a un vero, vero tifo, non quello napoletano, non quello napoletano che è sempre tra i peggiori, voi non lo sapete ma è tra i peggiori, l'unico stadio, vedrete che quando ci sarà Napoli-Union-Berlino lo stadio sarà mezzo vuoto, l'unico stadio al mondo, al mondo in Europa, che in Champions League riuscirà a non fare il tutto esaurito. E soprattutto avete visto quei tifosi, quei tifosi all'ultimo minuto, hanno perso otto partite a seguito, forse nove con queste, no? Quindi a un certo punto questi qua hanno tifato, perché questi sono i tifosi, non i tifosi del Napoli che l'anno scorso sono arrivati allo stadio, sapete quando? Dite una cosa, dite, dite, quando? Quando aveva dieci punti di vantaggio. Questi sono i tifosi, ah io vengo quando il piatto è pronto, cari miei, vergognatevi, viva i tifosi dell'Union-Berlino, che ha preso scopole da due mesi a questa parte, però sono veri tifosi e dopo contesteranno, dopo faranno le cose, ma dopo lo faranno. Quindi vergogniamoci dei tifosi del Napoli e poi lasciano stare quelli che vanno in trasferta, gli ultras, quelli che non si discute, che sottifono sempre. Allora, cari signori, domenica per me la partita più importante, Napoli-Milan, io ho bisogno di vedere un Napoli vincente, è chiaro? Col Milan bisogna vincere solo Garzia, 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 vedremo, vedremo. Signori, col Milan si deve vincere.